Veti e condizionamenti non consentono di andare avanti come la città merita per come necessario. L'attaccamento alla poltrona non mi appartiene, ho deciso di reagire, per questo rassegno le dimissioni. Con queste parole ieri sera all'inizio del Consiglio Comunale, il sindaco di Gravina in Puglia, Alessio Valente, ha annunciato le dimissioni. Non abbiamo dato sempre un bello spettacolo, ha esordito il primo cittadino rivolto alla maggioranza consigliare. È il momento di dire basta, ha aggiunto, abbiamo fatto tanto ma avremmo potuto fare di più. Abbiamo amministrato nella legalità e nella trasparenza, intercettando finanziamenti milionari e avviando una programmazione che a breve si tradurrà in cantieri aperti per opere pubbliche di primario interesse. Eppure la litigiosità e i contrasti hanno prevalso. Ho rivolto un invito all'intero Consiglio a ritrovare l'armonia necessaria, pur nel rispetto dei ruoli e delle appartenenze per il bene di Gravina, ha spiegato Valente, ma l'appello è caduto nel vuoto. La storia ci ha dato la possibilità di riscattarci, ma non ci perdonerà se non sapremo cogliere l'opportunità offertaci. Vengo dalla cultura contadina, ha poi spiegato il primo cittadino di Gravina. Sono figlio di un agricoltore che ogni mattina esce di casa alle 5 per andare nei campi e ritornare solo a sera. Potrò anche non essere il migliore dei politici e di certo anch'io avrò commesso degli sbagli, ma non ho mai svenduto la dignità e non mi sono mai tirato indietro di fronte all'unico vero obiettivo, lavorare per il benessere dei gravinesi e il futuro della città. L'attaccamento alla poltrona non è il mio fine, ha concluso Valente. Per questo faccio un passo indietro. Mi auguro possa servire a ripristinare le condizioni del dialogo, del confronto, dell'azione.